Carissimi ottoliner, come saprete tutti benissimo, la minaccia di Escalation che ci ha tenuto sulle spine per tutta la scorsa settimana è stata sventata. Il via libera di Washington all'utilizzo dei missili a lungoraggio USA per colpire dentro al cuore della Russia alla fine non è arrivato. Purtroppo però non si tratta di un capitolo chiuso, ma di un semplice rinvio. Un teatrino che abbiamo già visto n.mila volte e che ci avrebbe anche abbondantemente rotto. Ve lo ricordate il tir e molla sui carri armati? Mandagli prima gli Abrams te, no prima i Leopard te. E poi gli F-16, mandagli li te, no te. E il tutto immancabilmente accompagnato da decine e decine di articoli che ci raccontavano la leggenda metropolitana dell'Occidente pieno zeppo di armi capaci di mettere fine alla guerra in un battibaleno, se solo non fosse stato, per le opinioni pubbliche, manipolate dalla potentissima macchina propagandistica del Cremlino. Poi alla fine, come ampiamente previsto, arrivavano i carri armati sia dell'uno che dell'altro. Eppure gli F-16 e tutto quello che l'Occidente aveva davvero a disposizione. Ma sul campo non cambiava una sega niente. E tutte le volte il solito identico copione. Qualche giorno di silenzio stampa per assestare un po' il colpo, durante il quale la guerra scompariva dalle prime pagine della propaganda e poi riborda una nuova arma immaginaria e un nuovo teatrino. Una sceneggiata che ormai gli italiani hanno capito alla perfezione. E così oggi è favorevole all'invio di nuove armi in Ucraina, meno di un italiano su tre. Se ci levi quelli che campano di incarichi pubblici, che hanno bisogno della benedizione di Washington e di Bruxelles, i giornalisti del gruppo Gedi e i loro parenti, la percentuale scende a uno su dieci. Alla fine ne rimarranno solo due e si chiameranno Jacopo Iacoboni e il suo ex direttore Maurizio Sambuca Molinari, che si rimette un po' in sesto e ci riprova. Ucraina. Le autocrazie armano Mosca, titolava il suo esilerante editoriale di Domenica sulla Repubblichina. Si sentiva un po' scalzato. Negli ultimi giorni, infatti, il primo gradino del podio di leader incontrastato del suprematismo metafisico gli era stato strappato con violenza da Federico Bretella Rampini e dal suo grazie occidente. Si doveva rimettere in pari, anche perché l'ordine di scuderia, almeno da qui a novembre, è chiaro. «Ignorate i disfattisti», titolava ieri il Wall Street Journal, «la strategia americana sta funzionando». E meno male, insomma, se non funzionava era un problema. Certo, Kiev è ancora lontana dalla vittoria, ammettono, ma gli Stati Uniti stanno raggiungendo il loro obiettivo primario, contenere il potere russo. D'altronde, nella vita si sa, chi si accontenta gode. Ma mentre i pennivendoli di tutto l'Occidente collettivo si inventano tesi strampalate per accontentarsi e per godere, purtroppo c'è chi si prepara in silenzio ad affrontare quello che ci stanno preparando, che non credo ci farà godere poi tantissimo. «Servizi per la modellazione degli effetti delle armi nucleari sui sistemi agricoli». Così si intitola l'annuncio pubblicato dallo IRDC, la Divisione Ingegneristica delle Forze Armate USA. I candidati dovranno sviluppare un modello per valutare l'impatto dell'utilizzo di armi nucleari distruttive per l'ambiente e la produzione agricola nei paesi dell'ex blocco sovietico. Ma tranquilli, eh? Gli Stati Uniti stanno raggiungendo il loro obiettivo. Ma prima di addentrarci nei meandri di questa escalation rinviata, vi ricordo di mettere un like a questo video e permetterci così di combattere anche oggi la nostra guerra quotidiana contro la dittatura degli algoritmi. E se ancora non lo avete fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali, prima che chiudano quello che sta proprio sulla piattaforma che più amavate, com'è successo di nuovo anche domenica con il canale YouTube di Red, Revolutionary Educational Documentaries, un piccolo canale di approfondimento chiuso con tanto di annuncio in pompa magna e in conferenza stampa da Blinken stesso. Buona visione, finché dura almeno. Il primo atto del lungo ed estenuante cerimoniale che accompagna immancabilmente ogni nuova escalation si è concluso sostanzialmente con un nulla di fatto. Ma anche se il via libera definitivo dalla Casa Bianca per l'utilizzo dei suoi ATAKMS, insomma è come cazzo si pronuncia, per colpire direttamente il territorio russo, per ora non è arrivato, la macchina si è messa definitivamente in moto. Secondo il Financial Times infatti anche a questo giro Biden avrebbe chiesto ai vassagli europei di fare il primo passo e di assumersi tutti i rischi. Si accoderanno più avanti, se e quando saranno sicuri che la risposta di Mosca sarà anche a questo giro tutto sommato moderata. D'altronde per continuare a rimandare la disfatta definitiva dell'Ucraina, l'impiego dei missili a lungo raggio per colpire direttamente il suolo russo, è tra le pochissime carte che rimangono prima dell'ingresso vero e proprio di truppe NATO in guerra. O meglio, diciamo che ne è l'antipasto. A cosa servono? L'ha spiegato bene Zelensky stesso in una lunga intervista di ieri alla CNN, dove ha chiarito un po' di aspetti che probabilmente non sono stati particolarmente apprezzati dai NAFO più sfegatati. Forse pure troppo, nella solita logica anche comprensibile, di piangere il più forte possibile quando c'è da chiedere armi nuove, per poi inventarsi per qualche giorno qualche successo mirabolante quando poi arrivano, e per poi ricominciare sempre tutto da capo. Zelensky in pratica ha dato ai suprematisti che seguono le cose militari la stessa quantità di sberle a quattro mani che pochi giorni fa San Mario Pio da Goldman Sachs aveva dato a quelli che seguono le faccende economiche. In entrambi i casi si è trattato di un risveglio piuttosto traumatico. Zelensky ricorda come negli otto mesi che il congresso USA ha impiegato per approvare il nuovo pacchetto di aiuti abbiamo dato fondo a tutto quello che avevamo a disposizione, sia in termini di riserve che di equipaggiamento ed ecco così che quando finalmente le nuove armi sono arrivate erano messi così in male che invece di riuscire ad equipaggiare adeguatamente quattordici brigate come avevano previsto e richiesto sono stati a malapena in grado di equipaggiarne quattro. Non importa quante brigate riusciamo a impiegare in un settore se metà di queste brigate non sono equipaggiate, ha sottolineato. Non facciamo che perdere una marea di uomini perché ad esempio mancano i veicoli corrazzati e oltre ai mezzi corrazzati ovviamente a mancare è anche l'artiglieria. Per fare un confronto dichiara Zelensky, probabilmente anche calcando un po' la mano, quando i russi hanno 12 munizioni noi ne abbiamo una, 1 a 12. Questo è il rapporto. Ora, mentre loro davano fondo a tutto, i russi per 8 mesi hanno avuto e ancora hanno mano libera nell'utilizzo della loro aviazione, dalla quale lanciano ogni mese 4.000 bombe guidate che hanno distrutto tutta la nostra rete elettrica, l'80%. Le basi di partenza di questi aerei, continua Zelensky, nel tempo sono state allontanate dal confine da 100-150 km a 300 km passa e ora per colpirli abbiamo bisogno di nuovi permessi. Abbiamo bisogno di utilizzare queste armi a lunga cittata per attaccare i jet nelle basi militari, conclude. Insomma, queste armi sicuramente rappresenterebbero un passo avanti molto utile per Kiev. Ma come tutti gli altri passetti avanti, pensare possa rappresentare davvero una svolta, così a occhio sembra una discreta cazzata. Lo sottolineava ieri con inusitata lucidità anche Carlo Nicolato sul libero. L'eventuale utilizzo di tali missili, sia quelli britannici che quelli americani, scriveva, non avrebbero un impatto significativo sulla guerra. Il motivo principale, come sempre, è che alla fine si parlerebbe comunque di forniture decisamente limitate, del tutto insufficienti per ribaltare le sorti del conflitto. Soprattutto, sottolinea giustamente, dal momento che in questi due anni Mosca ha preso tutte le contromisure necessarie per ridurre significativamente l'efficacia degli Heimars ed eventualmente degli stessi Atakms, tutte le volte non so come si dice, lanciati da terra. Ciò nonostante, la reazione di Putin è stata piuttosto drastica. Perché? Il primo punto, ovviamente, ha a che vedere con gli equilibri interni alla Russia. Nonostante, tutto sommato, la tanto celebrata offensiva del Kursk alla Russia le abbia fatto come il cazzo alle vecchie, ciò non di meno ha rafforzato le critiche alla supposta moderazione di Putin, che viene accusato di non fare abbastanza per far rispettare le linee rosse. Contro l'ipotesi di altri attacchi in territorio russo, battere i puni sul tavolo è il minimo sindacale per non far esplodere quella sacca consistente di malcontento. E poi c'è un aspetto un po' più delicato. Ma prima di procedere, un brevissimo break pubblicitario. Dal 9 ottobre, su Ottonina TV, partirà una nuova trasmissione che conduco io. Si chiama Metamorfosi, in tal un talk show in cui parleremo di esseri, interni, economia e società. Vi aspetto! Come è emerso già mesi fa dalle intercettazioni tra personale militare tedesco, trapelate non si sa bene come, i sistemi d'arma che l'Ucraina va elemosinando per essere utilizzati hanno bisogno di uomini NATO sul campo. Il loro utilizzo, quindi, sottintende la partecipazione diretta al conflitto di personale degli eserciti e degli stati che hanno fornito quegli armamenti e quindi in soldone del loro ingresso in guerra. Ora, uomini dei paesi NATO che partecipano al conflitto sotto mentite spoglie di varia natura, ce ne sono da sempre. Ma fino ad oggi, tutti hanno sostanzialmente preferito fare finta di niente, nascondendosi dietro a un po' di sana ambiguità e plausible deniability, che però a questo punto diventerebbe difficile da sostenere. E di fronte all'evidenza, non reagire indebolirebbe la credibilità e quindi anche la deterrenza russa. Senza contare che, visto che se l'intenzione è quella di continuare il pantano anche dopo le elezioni di novembre, prima o poi qualcuno a dare manforte agli ucraini, che se non sono letteralmente finiti poco ci manca, ci dovrà andare, questo sarebbe un pericoloso passo intermedio che avvicina anche quella soluzione. Ora, la necessità oggettiva di Putin di rispondere adeguatamente a questa eventuale ulteriore escalation, sia per motivi interni che per motivi strategici, pone un problemino non da poco. Perché il problema è anche, ovviamente, che non è che di questi missili a lunga gittata nell'Occidente ci siano i magazzini che scoppiano. Quindi, se ne dai pochini, fa incazzare Putin per niente. Se ne dai tanti, diciamo un numero sufficiente per incidere almeno un po' sull'andamento del conflitto, non solo fa incazzare Putin ancora di più, ma poi significa anche che hai svuotato i magazzini e per difenderti ti è rimasto poco o niente, proprio quando hai fatto incazzare Putin. La strada, quindi, è come al solito piuttosto strettina. D'altronde, non smetteremo mai di ripeterlo, sono inconvenienti che succedono quando per 40 anni ti convinci che puoi dominare il resto del mondo a suon di dollari e di piccole guerre asimmetriche e poi tutto d'un tratto ti ritrovi a combattere una guerra vera. E per imporre una svolta dell'economia in direzione di una vera e propria economia di guerra, anche volendo, ti mancano proprio gli strumenti concreti. Il quadro poi si complica ancora di più quando realizzi che Putin, per reagire, non deve necessariamente colpirti direttamente, che può essere un livello di scontro che anche lui per ora non vuole prendere in considerazione. Il problema è che siccome non sei un paesino che difende i suoi confini, ma un impero globale, la cui sopravvivenza è legata necessariamente a un dominio che si estende su tutti i continenti, di fronti aperti ne hai più d'uno. E in particolare ce n'è uno dove un intervento più deciso da parte di Mosca potrebbe trasformarsi rapidamente in una debacle totale. Quel fronte ovviamente è il Medio Oriente. Ed ecco così che, come per magia, il primo genocidio in diretta streaming della storia passa subito nel dimenticatoio e si torna a prendere di mira l'Iran. Il là l'ha dato Blinken quando è passato a prendere con la sua torpedo blu il collega britannico la scorsa settimana per portarlo in gita a Kiev. La Russia sta condividendo tecnologie richieste dall'Iran, affermato durante la conferenza stampa, inclusa quella nucleare e spaziale, per generare ancora più insicurezza nel mondo. Nel frattempo la scorsa settimana i tre paesi europei coinvolti nei negoziati con Terran sul nucleare, prima che Donald Trump ne uscisse unilateralmente, hanno dichiarato che le riserve di uranio arricchito dell'Iran sono cresciute significativamente e ciò non può essere giustificato da un programma per soli scopi civili. Mosca sparge tra le dittature il virus tecnologico della distruzione di massa, titolo al suo sproloquio quotidiano sulla Repubblichina di Feo. Secondo di Feo ovviamente Mosca è alla canna del gas, al punto che è costretta, in cambio di armi molto poco sofisticate, a condividere le sue tecnologie più preziose. Di Feo riconosce infatti che in tema di missili a lungo raggio e di tecnologia nucleare, la Russia abbia un primato che custodisce gelosamente. Ma da quando si è ritrovata a combattere con le pale e il chip delle lavatrici, per tutto il resto si è dovuta arrangiare con i droni low cost e i missili balistici imprecisi, che li potevano fornire quei tre beduini che gli erano rimasti amici, mentre tutto il mondo civilizzato si tatuava Zelensky con lupetto color khaki sul bicipite. Ed ecco così che, come per i virus, oggi siamo davanti a uno spillover di tecnologie di morte e nelle fabbriche di Teheran si ha un passo da rendere operativo un missile che vuole compie manovre a 8.000 km orari, una tecnologia che i laboratori iraniani non potrebbero mai sviluppare senza l'aiuto dei tecnici russi, che da due anni perfezionano loro i personici Kinzhal e Zirkon nei bombardamenti delle città ucraine. Ma ancora più dei missili, allerta di Feo, a far paura, è la condivisione dei progetti nucleari che verrebbero messi a disposizione non solo degli Ayatollah, ma anche di Kim Jong-un. Entrambi i paesi, insiste, possono bruciare le tappe grazie ai consigli di Mosca e ottenere nel giro di pochi anni arsenali mostruosi in grado di destabilizzare non solo il Medio e l'Estremo Oriente, ma l'intero pianeta. Una minaccia senza precedenti, conclude, con una proliferazione di testate in mano a nazioni che disprezzano le convenzioni internazionali. Assurdo, eh? Il nucleare in mano a nazioni che disprezzano le convenzioni internazionali. Proprio ora che Israele e il suo arsenale invece l'aveva convertito a uso civile per creare energia gratis per i bambini di casa. Siamo braccati dagli incivili con, come scrive Sambuca Molinari, le autocrazie che armano Mosca. Anche se io avevo capito il contrario, ma vabbè, è la Repubblichina. Scriviamo un po' cosa cazzo ci pare. Sambuca Molinari, forte della consulenza di uno specialista di ranko come il suo vice di Feo, credo faccia un po' di confusione. Definisce gli ababil iraniani missili a corto raggio, che consentono di colpire obiettivi con estrema precisione. Ma quanto mi ricordo, però, gli ababil sono droni che l'Iran usa da sempre e non mi pare siano particolarmente avanzati. Forse, più probabile, Sambuca Molinari si riferisce invece ai missili balistici FAT-360, che in effetti sì, Teheran sembra abbia fornito a Mosca. Sambuca ricorda come Borrell abbia definito questa fornitura addirittura una minaccia diretta alla sicurezza europea. Anche se non si capisce in che modo, visto che hanno una gittata di poco superiore ai 100 chilometri. Ma poco importa, visto che a Mosca direttamente non c'è verso di fargli danni, ora tocca concentrarsi su Teheran e ogni vaccata è un'occasione imperdibile per assestare un colpo a questo asse delle autocrazie. Per questo nuovo scontro di civiltà, Sambuca individua poi anche un nuovo paladino. Uno che non le manca a dire e che finalmente ha avuto il coraggio di denunciare apertamente il pericolo della collaborazione militare fra le autocrazie, accomunate dalla volontà di indebolire le nostre democrazie. Quel paladino si chiama l'Instagram. Quel l'Instagram. Sono seduti su 10-20 trioni di dollari di minerali critici in Ucraina. Potrebbero essere il paese più ricco di tutta l'Europa. Non voglio dare quei soldi e quegli asset a Putin da condividere con la Cina. Aiutiamo l'Ucraina adesso. Potrebbe diventare il miglior partner commerciale che abbiamo mai sognato. Quei 10-20 trioni di dollari di asset minerali critici potrebbero essere usati dall'Ucraina e l'Occidente, non dati a Putin e alla Cina. Questo è davvero un affare colossale in cui è l'Ucraina. Aiutiamola a vincere la guerra adesso. Non possiamo perdere. Troviamo una soluzione a questa guerra. Ma sono seduti su una miniera d'oro e dare a Putin 10-20 trilioni di dollari di minerali critici da condividere con la Cina. È ridicolo. Ora, intendiamoci, io non credo assolutamente che la guerra per procura in Ucraina abbia a che vedere con queste risorse. Credo che la guerra per procura in Ucraina abbia a che vedere con qualcosa di molto più grosso e strutturale. E c'è il panico che si è scatenato nell'Occidente collettivo da quando hanno realizzato che ci sono paesi che non hanno più nessuna intenzione di obbedire alle regole dell'ordine internazionale che le ex potenze coloniali hanno costruito a immagine e somiglianza dei loro interessi e che questi paesi ormai sono attrezzati per imporre a tutto il pianeta la fine del dominio dell'uomo bianco e un nuovo ordine multipolare. Le affermazioni di Graham sono un tentativo disperato di convincere principalmente il suo audience di suprematisti bianchi che però realisticamente pensa che contro la Russia vincere militarmente sia piuttosto inverosimile. La cosa interessante è che uno spregiudicato affarista guerrafondaio profondamente razzista come Graham diventi il riferimento di uno come Sambuca Molinari che infarcisce sempre le sue riflessioni di una quantità inverosimile di vaccate sui valori democratici e la minaccia totalitaria. Un po' come quando il pluricriminale ultra-reazionario Dick Cheney dichiara il suo sostegno a Kamala Harris. Insomma, il re è nudo e i sondaggi lo dimostrano. Nell'ultimo anno scrive Ivo Diamanti sulla Repubblichina a commento del suo ultimo sondaggio il consenso verso gli aiuti militari all'Ucraina continua a scendere in modo continuo e negli ultimi mesi si assiste a una vera caduta, quasi un crollo. Secondo il sondaggio la percentuale di persone che si dichiara favorevole al sostegno militare all'Ucraina è crollata sotto il 30%. Un anno fa, ricorda Diamanti, raggiungeva il 47% e oltre il 60% i primi mesi dell'invasione. Purtroppo però c'è un'eccezione. Quei pochi che ancora oggi dichiarano che all'elezione voterebbero un partito di centro-sinistra. Ovviamente su tutti svettano gli elettori di più Europa e azione che potremmo proprio definire i talebani del suprematismo occidentale. Ma anche tra le fila del PD la voglia di guerra è ancora consistente e cosa che tra chi non ha perso completamento ogni forma di lucidità non dovrebbe sorprendere troppo, ancora più che tra le fila del PD, tra quelle di alleanza verdi-sinistra. Bene il 48% degli elettori di AVS si dichiarano infatti favorevoli all'invio di altri aiuti militari in Ucraina. D'altronde loro sono quelli studiati, quelli che non cadano preda della propaganda putiniana che è onnipotente e onnipresente. Sta letteralmente dappertutto, anche dove non te lo aspetteresti. Dall'Argentina alla Moldavia, titolava domenica la stampa, la rete della propaganda russa nel mirino di Washington. Secondo l'inviato da Washington della stampa, infatti in Argentina i russi stanno tentando di dirottare la politica del governo e creare frizioni con i paesi limitrofi. Ma te senti cosa viene fuori alle volte a leggere i giornali mainstream? E io che ero rimasto che in Argentina, con il sostegno degli USA, avevano fatto prima un golpe giudiziario per mandare a casa i peronisti e poi avevano fatto vincere le elezioni a un caso umano che come prima uscita pubblica si era fatta una foto con Netanyahu da un lato e Zelensky dall'altro, ricoperto dalle bandiere ucraine e israeliane. Intelligenza artificiale in mano a Putin? Come primo atto del governo poi aveva fatto uscire il paese dai BRICS. Anche questa intelligenza artificiale in mano a Putin? Accidenti a questa maledetta propaganda putidiana che ci riempie di fake news. Contro il mondo alla rovescia dei pennivendoli di fine impero alla canna del gas, ci serve come il pane un vero e proprio media che dia voce al 99%. E già che c'è, magari, che rispetti un minimo, dico proprio un minimo, l'intelligenza di chi lo guarda. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Gennaro San Giuliano. Ciao! 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 Grazie a tutti